Mikola Salekna, conosciuto anche come il big boss del disco, oppure l'uomo dall'apertura delle braccia come un'aquila, oppure altri nomi e soprannomi che mi sono appena inventato in questo momento. Parlando seriamente, Mikola Salekna è il nuovo detentore del record mondiale nel lancio del disco, con incredibile misura di 74,35 e che è andato ad aggiornare così il record del mondo che era il più vecchio dell'atletica maschile. Cioè quel record era lì dal 1986 e quindi tocca scoprire qualcosa di più su di lui, ma per farlo come al solito dobbiamo tornare indietro nel tempo, ben prima della sua nascita. Siamo nel 1996 e c'è questo colosso enorme ad Atlanta, alto 2,01-2,02 all'incirca, che pesa 130 kg e questo gigante riesce a lanciare l'attrezzo da 2 kg a 65,30 m, terminando poi al quinto posto. Il nome di questo gigante è Virgiliu Salekna, atleta lituano nato nel 1972, quindi ad Atlanta a 24 anni. Da quel momento in poi diventa uno dei protagonisti della scena internazionale nel lancio del disco. Nell'anno 2000 riesce anche ad arrivare al primato personale che gli rimarrà a vita, fatto durante i campionati nazionali lituani, con 73,88 m, il che si tratta di soli 20 cm in meno rispetto a quanto aveva fatto il tedesco Schultz nel 1986, quindi 14 anni prima. E da lì in poi Virgiliu Salekna diventerà il secondo miglior uomo nella storia. Dallì a poco si conferma proprio uno dei più forti della storia, vincendo loro i giochi olimpici sia a Sydney nel 2000, sia ad Atene nel 2004. E poi comunque tanta roba perché ai giochi olimpici successivi, quelli di Pechino del 2008, arriva comunque al bronzo all'età di 36 anni. Poi ai campionati mondiali non mancano due ori e due argenti, mentre ai campionati europei vince tutte e tre le medaglie, una volta l'oro, una volta l'argento e una volta il bronzo. Nel mentre che Virgilius continua a mietere successi, incontra un'altra atleta, una lunghista per la precisione, il cui nome è Virgilia Savlovskite, che praticava salti in lungo, E però non credo che fosse particolarmente forte perché ricercando informazioni su di lei non ho trovato nessun risultato, quindi era sia una lunghista ma non di livello internazionale. Ma tant'è, si tratta comunque di un atleta. Chiudendo la parentesi, Virgiliu Salekna avrà una carriera estremamente lunga, la chiuderà soltanto nel 2016, a ben 44 anni. E così tra un oro olimpico e l'altro arrivano anche dei figli. Martinez nel 2000, Mikolas nel 2002 e Gabriel nel 2008. Il primo genito, Martinez, seguirà le orme del padre, diventerà un discobolo tutt'ora in attività e con un primato personale siglato nel 2023 con 67-23, che è comunque un ottimo lancio, gli garantisce comunque la 123esima posizione di tutti i tempi tra i discoboli. L'ultima arrivata in casa, Gabriel se ne sbatte altamente delle tradizioni di famiglia per ora, ma comunque sta facendo atletica, si tratta di principalmente una saltatrice con 1,58 nell'alto e 5,59 nel lungo, considerando che comunque è under 18 lei, al primo anno under 18. Anche se nell'ultima stagione un paio di volte si è cimentata nel pentatron. E ora arriviamo al protagonista del video, Mikolas Alekna, il figlio di mezzo, nato nel 2002, più precisamente il 28 settembre. E lui all'inizio nasce non come discobolo, anzi all'inizio neanche faceva atletica. Inizialmente lui da piccolo ha fatto calcio. Nell'intervista ha detto che ogni tanto faceva il salto in alto, ma non si sanno neanche i suoi risultati. Quindi probabilmente nulla di che è fatto un po' tanto per, un po' a caso. Però poi Mikolas Alekna, figlio di un uomo enorme di due metri e passa, ha cominciato a crescere abbastanza la svelta. Infatti adesso, in età adulta, è alto 1,94. Non è un gigante come il padre, ma di certo non è basso. E questo fatto che è diventato molto alto anche abbastanza la svelta, ha fatto sì che diventasse lento rispetto ai compagni di squadra, di calcio inteso. E quindi vedeva gli altri che diventavano man mano più forti e lui diventava man mano più scarso. Così ha cominciato a interessarsi un po' meno al calcio e ha provato un pochettino a fare disco. Poi sappiamo tutti com'è finita la storia. Però lui di fatto comincia a lanciare quando è allievo. A 16 anni arriva a 51,31 con il disco da 1,5 kg, mentre l'anno successivo, sempre da under 18, arriva a 58,45. Poi magari non tutti sono avvezzi alle misure del disco, quindi vi do qualche riferimento. Il record italiano under 18 è di Mushy con 63,53. E un ipotetico 17enne Mikola Salekna nel 2024 si piazzerebbe al decimo posto nelle graduatori all time under 18. Quindi certamente era subito un grandissimo discoblo fin da piccolo. Era comunque forte. Però non è che lanciasse 70 metri quando era giovane. Non erano risultati da far mettere le mani nei capelli. Durante il suo primo anno da Juniores, il calendario segna una bruttissima data, cioè il 2020. Quindi si tratta di una stagione veramente super ridotta, all'osso e con poche gare. Si tratta comunque anche della prima stagione in cui lancia il disco da Juniores, cioè quello da 1,75 kg. Dove supera di poco i 62 metri, però comincia anche a fare qualche lancetto con il 2 kg, quello degli assoluti. E dove termina con un ottimo 57,68. Tuttavia sarà soltanto dal 2021 che il mondo intero si accorgerà di Mikola Salekna. Perché banalmente il miglioramento che ha fatto dal 2020 al 2021 è stato enorme. A luglio diventa il campione europeo under 20 nel disco e il mese successivo si prende il titolo mondiale. Ovviamente sempre under 20. E il disco da 1,75 atterra a 69,81. Facendolo diventare a quell'epoca, che oddio a quell'epoca sembra 12.000 anni fa, comunque in quell'esatto momento era il secondo miglior under 20 di tutti i tempi. A soli 32 centesimi dal record mondiale di categoria. Comunque adesso non è più così perché nel 2022 il tedesco Mika Sosna ha migliorato il record del mondo under 20. Portandolo a 71,37 ovviamente con il disco quello degli under 20. L'anno successivo, il 2022, segna un enorme cambiamento per Mikolas. Sia perché da una parte abbandona la categoria under 20 e quindi sarà costretto a lanciare sempre e solo con il disco da 2 kg. Sia perché si trasferisce negli Stati Uniti, diventando un atleta della NCAA, ovvero il circuito dei collegi americani. Visto che entra nell'università della California. Ma non è che sia stato particolarmente problematico e impattante il cambio di categoria. Visto che comincia a infrangere qualche piccolo record. Diventa il più giovane di sempre a diventare il campione europeo assoluto. E diventa il più giovane di sempre tra i medagliati ai campionati mondiali. Diventando secondo al mondo quell'anno. Ovviamente si tratta sempre di gare di disco, magari c'è stato qualcuno più giovane in altre specialità. Però trattandosi di disco, nessuno più giovane di lui ha mai vinto il titolo europeo ed è mai arrivato a medaglia agli assoluti ai mondiali. In quell'anno tra l'altro scaglia più volte l'attrezzo sopra i 69 metri, con addirittura un lancio da 69-81. C'è questo ragazzo a 20 anni ed era già al 32esimo posto nelle liste mondiali all time. In una specialità in cui quando si è giovani non è così facile emergere. Il 2023 non fa attendere nessuno, spara subito enormi prestazioni fin dall'inizio dell'anno, diventando il più giovane di sempre a raggiungere la soglia dei 70 metri. Tra l'altro con un lancio da 71 netto. E qui scala qualche posizione in graduatorio all time, diventando il diciottesimo uomo più forte nella storia. Poi vabbè, vince in modo super scontato il titolo di campione europeo Under-23 e i campionati mondiali di Budapest terminano al terzo posto. Piccola parentesi, pensate alla famiglia Alecna in quel momento. Il più scarso della famiglia, se così possiamo chiamarlo, ovvero Martinas, è comunque tra i 150 uomini più forti nella storia, ma in famiglia è solo al terzo posto. Follia totale per quanto riguarda Mikolas, che comunque ha meno di 20 atleti davanti a lui in tutta la storia della specialità negli ultimi 200 anni, ma non è il più forte della famiglia perché c'è suo papà che è il secondo di sempre. Però eccoci arrivati all'attualità al 2024. Il 14 aprile, all'esordio stagionale tra l'altro, fa capire subito che tutto il lavoro fatto durante l'inverno ha dato i suoi frutti. Fa una serie di lanci impressionanti, tutti sopra i 70 metri, che è già qualcosa di follia totale, un risultato del genere. A una certa il disco cade e l'aggeggio che segna la misura segna 74 e 41, che è qualcosa di trascendentale, vuol dire il record del mondo per un atleta che ha 22 anni. Anzi, gli compirà quest'anno 22 anni, in quel momento ne aveva ancora 21. Poi però, essendo comunque una cosa che riguarda un record del mondo, la misura viene ricalcolata con la rotella metrica. E così viene corretta la misura, vengono tolti 6 centimetri e diventa 74 e 35. Battendo così il precedente primato mondiale, che era 74 e 08, è diventando anche il più forte della sua famiglia. Ed è così che è crollato il record più vecchio dell'atletica maschile. Adesso, a livello maschile, il record più vecchio rimane sempre nell'ambito dei lanci e passa dal disco al martello, che è sempre un record targato 1986, però fatto un mesetto dopo, se non mi ricordo male, rispetto a quello del disco. E ora arriviamo al punto di farci una domanda scontata. Mikolas ha 21 anni, quest'anno 22. Parteciperà a Parigi ai suoi primi giochi olimpici. Non si sa quanto potrà fare ancora atterrare l'attrezzo lontano. Però dato che il record del mondo se ne è preso, e magari si spera possa migliorarlo, c'è un altro record di famiglia da battere adesso. Quello degli ori olimpici. Su papà se ne è presi due di ori olimpici ed è arrivato una volta al bronzo. Quindi chissà, magari tra 12 anni saremo qui a dire Mikolas ha battuto il numero di medaglie del padre, oppure non ce l'ha fatta. Staremo a vedere, ma di certo è un atleta molto interessante, che se tutto va bene potrebbe dominare la specialità nel disco nei prossimi anni. E spero di avervi fatto conoscere qualcosa in più del nuovo detentore del record mondiale di disco. Vi ricordo di lasciare un mi piace se non l'avete ancora fatto, iscrivervi al canale così non perdete nessun video. Se volete supportare Super Mega Tanto Ultra Ipar, Ipar? Volevo dire Iper? Il canale, valutate la possibilità di abbonarvi perché mi permetterà di andare avanti con pilole di atletica nel tempo. Grazie mille di avermi seguito fino a qua e non mi resta che augurarvi buon divertimento agli allenamenti e buona fortuna alle gare. Bye bye!